Ciao a tutti, ciao a tutte, eccoci ancora qui alla Pazienza del Budino. La lettura che vi presenterò adesso è Le galline di Sonia di Febe Wall. Un giorno il papà di Sonia tornò a casa con tre morbidi pulcini. Li porse a Sonia e disse Se vuoi puoi occupartene tu. Mentre Sonia e i suoi genitori sistemavano il vecchio pollaio in giardino, i pulcini abitavano in casa dentro una scatola di cartone. Sonia era molto brava a prendersi cura di loro. Adorava avvolgerli nel suo maglione per tenerli al caldo. Sarò la vostra mamma, diceva. Sonia prese molto sul serio il compito di occuparsi dei pulcini e questi crebbero in fretta. La mamma e il papà si dedicavano ai lavori della fattoria e Sonia era orgogliosa di fare la propria parte. Ovunque andasse, le goffe gallinelle la seguivano, pigolando a squarciagola. Ogni mattina Sonia si alzava al canto del vecchio gallo, apriva il pollaio e lasciava uscire le galline per farle razzolare e giocare. Si assicurava che avessero abbastanza acqua, puliva il pollaio e portava della paglia fresca. Quanto lavoro! Ma che bello! Dava loro da mangiare spargendo a terra dei chicchi di mais e lasciava perfino che lo beccassero dalle sue mani. A volte le galline trovavano dei vermi e se li mangiavano come dessert. Grazie alle cure di Sonia erano cresciute sane e forti. Vediamo ancora. Una mattina in mezzo alla paglia Sonia trovò un uovo marrone e liscio. Accostò quel delicato uovo alla guancia e sussurrò Grazie! Sonia era una brava mamma per le sue galline. Vi faccio vedere l'uovo e Sonia che dice il suo grazie e lo pensa con tutto l'affetto che ha nel cuore. Ogni sera Sonia si accertava che le galline fossero al sicuro dentro il pollaio. Mentre loro tubavano e si preparavano a dormire lei chiudeva la porta del pollaio con il chiavistello e serrava accuratamente il cancelletto dietro di sé. Poi tornava nel tepore della sua casa. Ecco le gallinelle che si preparano per la notte ed ecco la famiglia di Sonia. Una gelida notte Sonia si svegliò sentendo un frastuono provenire dall'esterno. si udivano dei colpi le galline starnazzavano e sembrava che qualcosa venisse trascinato per terra. Con il cuore che batteva forte Sonia si strofinò gli occhi ancora pieni di sonno infilò gli stivali e sgattaiolò fuori per andare a controllare le sue galline. La notte era immensa e fredda e fredda e Sonia rimpianse di non aver svegliato il papà per farsi proteggere dalle ombre e dai cespugli fruscianti. la notte la notte la notte Il pavimento del pollaio era coperto di piume e Sonia lanciò un urlo quando sulle travi vicino al soffitto contò non tre ma due galline spaventate. La terza gallina non si vedeva da nessuna parte Sonia scoppiò a piangere poi prima ancora che se ne fosse resa conto due forti braccia l'avevano sollevata da terra e le sue lacrime stavano bagnando la barba del papà. Il papà riportò Sonia in casa e la tenne stretta a sé Alla fine sfinita dal pianto Sonia chiese Chi l'ha presa? Una volpe? L'ha uccisa? Non è giusto! Shhh rispose il papà Quel che a te può sembrare ingiusto potrebbe avere senso per una volpe e le raccontò una storia La volpe che ha preso la tua gallina vive nel bosco dietro il campo disse il papà Ogni giorno lavora duramente per trovare del cibo da portare nella tana i suoi cuccioli Il più delle volte cattura dei topi e delle talpe ma ogni tanto le serve un pasto più sostanzioso per sfamare la sua famiglia così fa tutto il possibile per procurarlo non sapeva o non le importava che quella gallina fosse nostra per lei rappresentava soltanto la possibilità di nutrire la sua famiglia so che ti senti triste ma non vorresti che quei cuccioli morissero di fame vero? Sonia ci pensò su no disse credo di no così come io ho te e la gallina ha i pulcini anche la volpe ha i suoi cuccioli disse il papà di Sonia io faccio tutto il possibile per assicurarmi che tu sia felice e abbia la pancia piena e un posto caldo dove dormire anche tu hai fatto tutto il possibile per assicurarti che i tuoi pulcini fossero felici e avessero la pancia piena e un posto caldo dove dormire perché tu vuoi bene ai tuoi pulcini proprio come io voglio bene a te la volpe non è diversa anche lei ama i suoi cuccioli quindi anche se per noi è una cosa triste possiamo capire perché lo ha fatto anche lei ha i suoi cuccioli la mattina successiva sonia dispose in un angolo del giardino alcune pietre speciali il ricordo della sua gallina tutti insieme salutarono per l'ultima volta la gallina dalle piume soffici che amava tanto i vermi e che aveva deposto quel primo uovo marrone liscio è stata una gallina molto amata disse la mamma dando un bacio a Sonia Sonia aveva il cuore pesante mentre piangeva per la sua gallina però pensava anche ai cuccioli di volpe che vivevano felici nel folto del bosco Sonia e la sua famiglia ripararono e rinforzarono il rivestimento esterno del pollaio nel punto in cui la volpe era riuscita a entrare e nonostante fosse ancora un po' triste Sonia continuò a prendersi grande cura delle altre due galline si assicurava che avessero abbastanza acqua puliva il pollaio portava della paglia fresca e dava loro da mangiare dei chicchi di mais il giorno più bello fu quando un uovo marrone liscio iniziò a schiudersi che gioia Sonia aveva un nuovo pulcino di cui prendersi cura sarò la tua mamma gli disse farò tutto il possibile per assicurarmi che tu sia felice e abbia sempre la pancia piena e un posto caldo dove dormire e così fece e così la pancia